Amici sportivi, benvenuti da parte di Giuseppe Cina a questo nostro primo appuntamento stagionale con Totomarket Scommesse, trasmissione che da quest'anno ha una principale e sostanziale novità e cioè il fatto che è una trasmissione unica registrata settimanalmente. Tra poco vi farò di nuovo vedere l'elenco completo degli orari e dei passaggi sulle varie emittenti. Diciamo che è un anno nel quale chiaramente non abbiamo più il Palermo in Serie A, abbiamo però anche il Trapani in Serie B quindi dedicheremo ampio spazio anche alla squadra Granata che tra l'altro è stato anche molto sfortunato in queste ultime partite di campionato è arrivata la terza sconfitta consecutiva del Trapani però per il gioco espresso, per le occasioni avute e anche per colpe di diverse sviste arbitrali il Trapani si è potuto trovare adesso con tre sconfitte consecutivo pur mostrando un ottimo gioco sul campo pur raccogliendo tanti complimenti da parte di tutti gli addetti ai lavori per il gioco espresso. Il Palermo invece come sappiamo, come molti di voi sapete, ha cambiato l'ennesimo allenatore adesso è Beppe Iachini ad allenare il Palermo. Prendiamo che con l'avvento di Iachini in campo ha avuto un ottimo esordio il neo allenatore del Palermo in casa contro la Juve Stabia una vittoria netta per 3-0 anche se la Juve Stabia non è stato un test piuttosto impegnativo vedremo il Palermo già all'opera questo sabato a Brescia contro una squadra che ha fra l'altro altre problematiche sta rendendo molto meno di quanto ci si aspettava anche la squadra bresciana ma comunque il Brescia come livello tecnico è sicuramente superiore allo Juve Stabia vedremo come finirà a Brescia. Per adesso come vi ho anticipato andiamo subito a dare uno sguardo ai nuovi orari di questa trasmissione che andrà ripeto in onda due volte su Tele One il venerdì a mezzanotte e mezzo quindi diciamo nella notte tra venerdì e sabato e sempre su Tele One il sabato mattina alle 10.30 su Antenna 1 invece il giovedì alle 23.30 su Video One il venerdì alle ore 19 e su Tele Palermo il giovedì alle ore 23 per coloro che volessero mettersi in contatto con noi ricordiamo che avete due mezzi importanti o quantomeno quelli principali un indirizzo email che è cina.totomarket.it oppure solo ed esclusivamente sms quindi non chiamate questo numero soltanto sms potete mandare a questo numero che è il 320 56 26 794 andiamo a dare uno sguardo alla Serie A anche perché questa settimana la trasmissione sarà leggermente più corta dalla prossima puntata invece avremo un pochino più di spazio e parleremo anche dei campionati esteri Serie A c'è questa Roma che sta andando alla grande e credo che non è un fuoco di paglia questo della Roma sei vittorie consecutive nelle prime sei giornate di campionato soltanto il Atlético Madrid e Barcellona hanno fatto di meglio sinora sette vittorie nelle prime sette partite tra l'altro per il Barcellona questo è il record assoluto non aveva mai cominciato il campionato il Barcellona con sette vittorie consecutive lo ha fatto giusto giusto c'è anche l'Atletico Madrid che sta facendo in questo momento la stessa cosa comunque la Roma oltre a giocare bene oltre a fare punti ripeto mostra anche un ottimo gioco 17 gol fatti uno solo quello subito una Roma che finalmente ha cominciato a segnare anche nel primo tempo pensate un po' nelle prime cinque partite aveva già realizzato dodici gol tutti e dodici nella ripresa tant'è che forse è un po' così i tifosi della Roma stavano cominciando a pensare di entrare a vedere la partita soltanto al secondo tempo in poi visto che al primo tempo la Roma non riusciva mai a segnare comunque battuta così tanto per la Roma ha interrotto come al solito avviene come di solito avviene questa serie diciamo così strana di cinque partite senza segnare nel primo tempo e finalmente ha realizzato gol addirittura ne ha fatti tre la scorsa settimana nel primo tempo questo è un po' per la legge diciamo sia del compenso dicevamo Roma in testa con 18 punti a quota invece 16 troviamo Napoli e Juventus un Napoli che si è ripreso dopo il pareggio interno con il Sassuolo andando a vincere fuori casa contro il Genoa però è un Napoli che anche in Coppa un po' deluso ha giocato malissimo il Napoli nella partita contro l'Ajax quindi brutta prestazione strano devo dire perché in questo momento il Napoli sembrava a meno per quello che si era visto in campionato prima della partita contro il Sassuolo si era visto un Napoli davvero molto molto diciamo sì pericoloso in attacco un Iguain scatenato un Amsic che è tornato a giocare alla grande comunque un Napoli che poteva sicuramente essere accreditato anche di come la principale outsider o principale diciamo sì inseguitrice o competitors per quanto riguarda la Juventus che continua a restare la squadra favorita in questo campionato adesso però c'è anche questa Roma perché sta giocando veramente alla grande bisogna vedere se riuscirà a mantenere questi ritmi anche per il resto del campionato dicevamo il Roma 18 con il migliore attacco e la migliore difesa 17 sono i gol fatti dalla Roma uno solo quello subito per il resto diciamo che mancano secondo posto abbiamo visto Juventus e Napoli poi al quarto c'è l'Inter poi la Fiorentina a quota 11 la Lazio a quota 10 beh pensate un po' la giornata il prossimo turno di campionato la settima giornata propone tre partite proprio tra le sei squadre che sono in questo momento ai primi sei posti una giornata praticamente fantastica un Roma-Inter un Lazio-Fiorentina e uno Juventus-Milan tutte e tre nella stessa giornata e ripeto in questo momento queste sei squadre sono tutte e sei nelle prime posizioni di classifica tra l'altro credo che sarà interessantissimo soprattutto seguire Inter-Roma perché c'è una Roma in questo momento bellissimo l'Inter che sembra rinata con l'avvento di Mazzardi e già siamo alla sesta giornata di campionato quindi vedremo un attimo come andrà anche questa partita che ripeto è estremamente interessante così come interessantissima sarà anche Fiorentina-Lazio la Fiorentina finora ha raccolto un po' meno di quello che poteva ottenere e poi chiaramente la classica Tamina-Juventus con il Milan che non sta andando in questo momento molto bene dicevamo quindi tre partite molto interessanti per quanto riguarda le statistiche notiamo che ci sono a parte la Roma che ha sempre vinto sinora c'è soltanto l'Atalanta che ancora non ha pareggiato mentre per le squadre che aspettano la vittoria non hanno ancora vinto Bologna, Sampdoria e Sassuolo andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda i marcatori due i marcatori in questo momento in testa alla classifica Cerci del Torino e Giuseppe Rossi della Fiorentina poi c'è Amsic con quattro gol seguono tanti giocatori con tre gol andiamo avanti perché voglio arrivare a parlare subito della serie B una serie B nella quale c'è stato un altro stravolgimento della classifica dovuto al fatto che il Siena adesso è a meno 5 come penalizzazioni e quindi adesso è sceso a 7 punti il Bari che è a meno 3 come penalizzazione invece è a quota 8 comando una squadra imprevedibile alla vigilia che potesse disputare un ruolo di primo piano in questo campionato questa Virtus Lanciano unica squadra imbattuta della serie B fino a questo momento quattro vittorie e tre pareggi e nessuna sconfitta ripeto unica imbattuta che è in testa con 15 punti vedremo subito se questo fuoco è di paglia o meno io credo un po' sì perché già secondo me nel prossimo turno di campionato il Lanciano sarà ospite del Novara beh se riesce a farla franca anche a Novara cosa che mi sembra piuttosto difficile se la riesce a farla franca anche a Novara beh allora diciamo che si confermerebbe una squadra molto molto tosta io credo che a Novara invece il Lanciano rischi molto la sua imbattibilità comunque una squadra che segna pochino ha segnato solo 7 gol fino a questo momento mentre tante altre squadre ne hanno segnati di più l'Empoli 11, il Varese 11 addirittura il Siena che ha il migliore attacco del campionato fino a questo momento di gol ne ha realizzati già 14 ha un'ottima difesa invece la migliore del campionato ha subito soltanto 3 gol questo per quanto riguarda il Lanciano il nostro, diciamo il Palermo lo troviamo a quota 10 insieme a Novara e Crotone il Trapani che dicevo immeritatamente ha subito 3 sconfitte consecutive in questo momento è a quota 8 a metà classifica insieme al Bari andiamo avanti prima però volevo ricordarvi che oltre a esserci una sola squadra imbattuta cioè la Virtus Lanciano c'è anche una sola squadra che ancora non ha vinto un incontro ed è il Padova che è ultimo con un punto però è un Padova che ha una partita in meno insieme al Carpi partita nella quale ci fu una sospensione per via di un problema all'impianto di illuminazione del campo di gioco del Carpi che in effetti è quello del Modena Serie B uno sguardo anche alla classifica marcatori della Serie B per ricordare che ci sono tre giocatori in testa uno straordinario Babacar che domenica che nell'ultimo turno di campionato ha fatto vedere cose strabilianti realizzando due gol fornendo anche l'assist per il terzo gol del suo Modena Babacar insieme ad Hernandez del Palermo e Pavoletti del Varese questi sono i tre giocatori più prolifici fino a questo momento in Serie B con il fatto che comunque Pavoletti vedete per quanto riguarda i gol segnati sul rigore Hernandez ne ha segnati tre sul rigore Babacar e Pavoletti invece sinora nessuno tra l'altro noto che Babacar in casa ha segnato spesso sinora quattro gol fuori casa soltanto uno e poi vediamoci anche Mancosu del Trapani che finora ha segnato quattro gol uno nel primo tempo tre nella ripresa uno in casa e tre fuori casa questo per quanto concerne i marcatori della Serie B andiamo adesso a dare uno sguardo e facciamo una carrellata completa su tutte le partite della Serie A andando a vedere subito le quote e poi vedremo anche i suggerimenti che vi abbiamo dato per questa settimana sono in coda appunto alla trasmissione cominciamo con Bologna-Verona partita nella quale le quote ci dicono che insomma è favorito anche se di poco è il Bologna l'1 è a 2,10 l'X a 3,25 il 2 a 3,50 il Bologna è un po' giù nella classifica nonostante abbia fatto vedere un gioco che potrebbe diciamo sì avrebbe potuto meritare qualche punto in più e potrebbe anche raccoglierlo contro il Verona mi piace molto il segno 1 per essere un po' più prudenti si potrebbe andare sulla doppia 1X che è pagata a 1,27 vedete che l'over i quotisti lo pagano bene a 2 e potrebbe anche essere una buona scelta per puntarci qualcosa Verona a Verona si giocherà Chievo-Atalanta un'altra partita un po' come Bologna-Verona visto che insomma le principali squadre si incontrano falore evidentemente le altre squadre meno intitolate a loro volta si scontreranno tra loro quindi Verona-Atalanta il Chievo contro l'Atalanta si gioca sul campo del Chievo anche qui l'over è pagato molto è pagata a 2,10 anche qui leggermente favorito il Chievo il segno 1 a 2,20 l'X a 3,10 il 2 è a 3,40 beh devo dire che per me per i nostri che è un po' nella stessa direzione della partita di prima leggera preferenza per il segno 1 eventualmente la doppia 1-X pagata 1,28 potrebbe essere una possibile soluzione andiamo a Catania dove si giocherà Catania-Genoa e Catania è tornato a vincere domenica scorsa quindi ha un po' rimpinguato la sua magra classifica era soltanto a un punto dopo 5 giornate di campionato adesso è a quota 4 insieme proprio al Genoa che sarà il prossimo suo ospite anche qui una partita con le quote quasi uguali a quelle delle prime due segno 1 a 2,10 l'X a 3,25 il 2 è pagato a 3,50 anche qui l'over è il risultato più pagato l'over è a 2 mentre l'under è a 1,72 vi ricordo che quando non ci sono specifiche diverse per over intendiamo l'over 2,5 cioè almeno 3 gol in quella partita per quanto riguarda Catania-Genoa possiamo anche andare avanti e vedere appunto Inter-Roma che si giocherà di sabato sabato 5 ottobre Inter-Roma diciamo partita una delle tre partite più interessanti della giornata anche qui le quote però sono insomma sulla stessa lunghezza d'onda delle prime partite che abbiamo visto cioè il segno 1 leggermente favorito a 2,30 la vittoria dell'Inter sulla Roma a 3,40 il segno X il segno 2 cioè la vittoria della Roma è a 2,90 qui invece cambiano le quote per quanto riguarda l'under e l'over si prevedono parecchi gol almeno 3 gol in Inter-Roma infatti l'over è pagata 1,65 l'under invece a 2,10 io come suggerimento vi do un suggerimento che va al di fuori delle quote che vedete in questo momento sul teleschermo e cioè mi piace ancora la possibilità che la Roma nel primo tempo segni o subisca almeno un gol quindi over 0,5 nel primo tempo cioè che ci sia almeno un gol nel primo tempo tra Inter e Roma questo è il suggerimento che mi sento di darvi una partita che è apertissima come risultato e lo dicono anche insomma le quote queste sono di quelle partite nelle quali diciamo sarebbe bene stare un po' lontani dal pronostico perché sono partite apertissime può succedere un po' di tutto l'altra partita un'altra partita interessante è quella di Torino tra Juventus e Milan beh qui la favorita c'è è la Juventus che che è quotata come vincente a 1,60 vedete è un punto piuttosto bassa questa quota rispetto a tutte le quote che abbiamo visto fino a questo momento per il segno 1 l'X3,90 scusatemi addirittura il 2 è pagato oltre 5 volte la posta probabilmente in un altro momento del campionato questa quota per un 2 il Juventus e Milan non ci sarebbe stata in questo momento il Milan sta attraversando un momento così così ma attenzione insomma la qualità delle due squadre non è proprio molto diversa diciamo che per il Milan in questo momento inciderebbero probabilmente molte assenze per quanto riguarda i titolari quindi partita nella quale forse le assenze stanno un po' giustificando questa preferenza e soprattutto questa quota così alta per il 2 del Milan contro il Juventus che comunque sicuramente i milanisti o i tifosi insomma rossoneri non si lasceranno scappare per il resto anche in questa partita l'over è pagato pochino a 1,72 contro la quota dell'under che è alla pari cioè 2 anche qui mi astengo dal fare un pronostico perché anche questa secondo me è una partita molto aperta nonostante le assenze che ci sono nel Milan si è leggermente favorita senza dubbio la Juventus quindi mi astengo dal fare un pronostico anche per questa gara andiamo a Lazio Fiorentina anche qui troviamo quote piuttosto equilibrate d'altronde la partita lo è perché la Juventus la Fiorentina ha raccolto un po' meno di quello che poteva raccogliere in effetti come gioco espresso la Lazio è partita un po' in sordina quest'anno però nonostante tutto è a quota 10 vedete la Fiorentina invece è a quota 11 questa partita il segno 1 è pagato a 2,30 l'X a 3,20 il segno 2 a 3,10 qui in questa gara i quotisti sono rimasti piuttosto incerti vedete perché hanno dato la stessa quota hanno assegnato la stessa quota sia all'under sia al segno over stavo notando che è ben pagata volendo la doppia chance X2 pagata a quasi 1,60 per esattezza 1,57 quindi una doppia chance X2 che potrebbe essere piuttosto allettante anche perché la Lazio è ancora in attacco non è che si sia svegliata tanto la Fiorentina invece sembra far tesoro degli etori che fa e quindi potrebbe essere una partita nella quale questa quota che è piuttosto altina secondo me per la differenza che c'è fra le due squadre potrebbe anche regalarvi una discreta vincita Napoli-Livorno beh qui storia non ce n'è completamente in questa gara o quantomeno non ce ne dovrebbe essere perché il pareggio interno di nel contro il Sassuolo ha lasciato di stucco tutti quanti soprattutto tutti coloro che avevano portato nelle loro scommesse Napoli come segno 1 fisso sono rimasti un po' bocca asciutta e soprattutto siamo rimasti tutti quanti sbigottiti beh i cotisti per Napoli-Livorno ridanno di nuovo tantissima fiducia a questo Napoli e d'altronde la merita tutta il segno 1 è pagato appena 1,25 l'X già è pagato a 5,50 cioè 5 volte e mezzo la posta il 2 addirittura 11 volte la posta da notare che anche in questo caso si aspettano parecchi gol soprattutto dal Napoli il segno over è pagato a 1,65 in questo caso ripeto difficilmente credo che il Napoli farà un altro errore come quello che ha fatto Contessa Sassuolo il segno 1 ci sta davvero tutto anche perché Sassuolo attenzione dopo aver pareggiato a Napoli è stato anche capace di andare a dare fastidio anche alla Lazio la Lazio a un momento ci rimetteva le penne nell'ultimo incontro con il Sassuolo che ha dimostrato molta capacità di giocare molta capacità di mettere in difficoltà le avversarie il Livorno non lo vedo alla stessa altezza del Sassuolo quindi va bene secondo me anche l'1 di Napoli contro il Sassuolo anche se è pagato poco qui abbiamo invece adesso un derby in Emilia tra Parma e Sassuolo beh qui sì che potrei anche tentare di suggerire una possibile sorpresa anche se il Parma di Donadoni è un Parma scientifico come suo allenatore che è piuttosto meticoloso è piuttosto attento a tutte le piccole sfumature cioè giocare contro le squadre di Donadoni è sempre piuttosto difficile ma questo Sassuolo così sbarazzino così veloce così capace di sviluppare il gioco in contropiede e molto velocemente potrebbe essere una sorpresa che tra l'altro è pagata pure abbastanza bene perché vedete il 2 del Sassuolo è pagato oltre no oltre 5 volte e mezzo la posta a 5,50 mentre il Parma è sicuramente favorito vedete la quota dell'1 è a 1,60 questa è una partita nella quale anche se l'over è pagato pochino cioè meno dell'Under mi piace la possibilità che ci possano essere parecchi gol quindi anche se ripeto la quota è piuttosto bassa questo over 1,75 mi piace tanto andiamo a vedere adesso Sampdoria Torino partita molto molto equilibrata il segno 1 è quasi c'è pochissima differenza tra l'1 l'X e il 2 vedete l'X e il 2 ha la stessa stregua a 3 l'X a 3 il 2 a 2,45 il segno 1 la squadra di Ventura è capace di qualsiasi cosa la Sampdoria di Rossi però ha bisogno di punti e in questo caso a volte la necessità di necessità insomma si fa a virtù dice un vecchio detto Rossi è un bravo allenatore a meno che non ci sia qualcosa che non va nello spogliatoio della Sampdoria la Sampdoria dovrebbe diciamo così recuperare anche perché ci sono già 6 punti di distacco in classifica fra Torino e Sampdoria quindi la Sampdoria ha bisogno di punti può darsi che questa necessità gli rifaccia anche trovare in questo momento chiaramente sta giocando un po' meglio il Torino però ripeto la necessità di punti a volte fa miracoli anche qui l'over è pagato abbastanza è piuttosto alta la quota è pagata a 2,10 e anche per Sampdoria e Torino ripeto non mi dispiacerebbe anche in questo caso la possibilità del over ultima partita in programma Udinese Cagliari in questo momento alla sesta di campionato dopo la sesta di campionato trova entrambe le squadre a pari punti a quota 7 sia Cagliari che Udinese che dire di questa partita l'Udinese è partita piuttosto male rispetto diciamo sia le aspettative di inizio di campionato Guidolin sembra per un gruppo che non è più tanto motivato come lo era lo è stato nelle passate stagioni d'altronde a Guidolin ogni anno gli vengono tolti i pezzi migliori lui ha avuto sempre l'abilità di sostituirli con giocatori che poi non facevano rimpiangere i grossi calabi che che la dirigenza aveva venduto quest'anno però non lo so se riuscirà a mantenere questo questo status quo infatti già dalle prime giornate Udinese quest'anno sembra un po' arrancare attenzione a Cagliari invece perché ha mostrato gioco molto buono ha un ottimo allenatore ha parecchi attaccanti prolifici c'ha questo giocatore la Ingolana che nonostante tutto ha avuto tantissime richieste ma nonostante tutto è rimasto ancora a Cagliari ed è un giocatore che ha un peso di un certo calibro quindi attenzione a questo Cagliari perché se l'Udinese non si riprende il Cagliari potrebbe anche in questo caso essere una possibile sorpresa pagato a 4,2 volte la posta cioè una quota sono piuttosto interessante è favorita l'Udinese l'1 a 1,85 l'X a 3,40 il 2 a 4,20 e anche questa attenzione mi sembra una partita che potrebbe riservare anche tre o più gol quindi l'over a 1,95 lo caldeggio andiamo in Serie B cominciamo da Brescia Palermo e poi vedremo anche le quote della partita del Trapani che ospiterà in Latina Brescia Palermo vi ho già detto il Brescia sta avversando un momento negativo infatti è a quota 7 in classifica in questo momento è al quinto ultimo posto mentre diciamo alla vigilia era una delle squadre inserite nel lotto delle prime 5 e 6 che avrebbero potuto lottare fino alla fine per la promozione la squadra c'è i giocatori ci sono pure soprattutto quelli di talento sinora non si sono espressi bene ma credo che prima o poi verranno fuori bisogna vedere quando è questo poi ci auguriamo il più tardi possibile per quanto riguarda il Palermo e comunque parte con i favori del pronostico addirittura il Palermo Palermo che ha quota 2,55 come vittoria a me sembra un po' esagerato dare il Palermo favorito a Brescia mi sbaglierò comunque a 2,55 la vittoria del Palermo a 2,80 invece il segno 1 cioè la vittoria del Brescia l'X è pagato tre volte la posta partita nella quale io non mi estimo per quanto riguarda un pronostico perché sarei un po' impopolare nel senso insomma che mi sembra un po' esagerato come vi ho già detto dare il Palermo favorito in questa partita può darsi che mi sbagli anzi mi auguro di sbagliare però per esempio non posso fare a meno di notare che questa doppia chance 1X a 1,44 è da tenere in considerazione vediamo invece la partita del Trapani che è chiamato a vincere questa gara anche per rispondere sul campo ai torti che la squadra che è nata ha subito da punto di vista arbitrale soprattutto al non aver conquistato i punti che il suo gioco avrebbe meritato perché il Trapani ha raccolto consensi un po' dappertutto prima di queste tre sconfitte anzi prima ancora diciamo sì dell'ultima sconfitta era ancora accreditato come una delle squadre rivelazioni di questo campionato insomma la terza sconfitta consecutiva anche se è maturata con un gol fantasma a Siena sempre terza sconfitta e quindi sono un po' ridimensionate gli elogi che sono stati fatti alla squadra Granata comunque è un Trapani che adesso ha l'opportunità di rifarsi mi piace anche l'over per questa partita perché saranno molto arrabbiati i giocatori del Trapani credo che non si fermeranno dal primo al 95esimo over a 2-10 e il segno 1 secondo me è anche questo un segno ben pagato a 1,85 allora vi ricordiamo i nostri orari per coloro che appunto non avessero preso magari nota sappiate che comunque questi orari li troverete anche solo scommesse calcio che è un free press molto distribuito in Sicilia anche in Canabria nelle agenzie comunque ve li ricordo anche io a voce Tele One su canale 19 il venerdì a mezzanotte e mezzo e sabato mattina alle 10.30 su canale 185 Antenna 1 il giovedì alle 23.30 su Video One canale 196 il venerdì alle ore 19 su Tele Palermo canale 641 il giovedì e venerdì alle ore 23 appunti per le vostre scommesse vi diamo alcuni suggerimenti che fra l'altro troverete anche sul free press di cui abbiamo parlato sinora Tottenham West Ham ci piace il segno over a Ruka Porto ci piace il segno 2 del Porto contro la Ruka e sempre in Inghilterra nella Championship cioè la Serie B inglese ci piace il segno over per Wigan Coupier andiamo ancora ad altri tre suggerimenti che tra l'altro ripeto troverete anche su solo scommesse calcio in Germania ci piace sia la doppia chance 1x per Mainz non in Mainz il Mainz contro l'offenheim scusate per questa piccola svista è colpa mia in grafico ogni tanto le faccio queste cose il Mainz contro l'offenheim l'1x ci piace e ci piace anche l'under per questa partita in Spagna dove si giocherà Villarreal Granada ci piace l'over quindi almeno tre gol vi ricordo sempre che quando parlo di un over diverso dall'over 2.5 ve lo indico anche nella grafica per quanto riguarda la Francia invece nella Liga Francese una bella partita ci dovrebbe essere tra Marsiglia e Paris Saint Germain e anche per questa gara ci piace il segno over andiamo avanti sempre da suggerimenti che troverete anche sul giornale solo scommesse calcio le tre scommesse che abbiamo suggerito sul giornale ve le faccio vedere anche in video per venerdì ci piace l'over 1.5 di Bastea Lorien ci piace l'over 1.5 di Villarreal Granada ci piace la somma gol pari ricordate con pari intendo sempre la somma gol pari per il pareggio lo indicheremo con il segno X ma pari per noi vuol dire somma gol pari tra Almeire e Venlo in Olanda sempre in Francia ci piace l'over di Chamoise contro il Nenzi e poi Romania il Timisoara contro il Corona somma gol pari questa è una partita di venerdì una scommessa per sabato potrebbe essere questa Lati Mariam il somma gol pari in Finlandia Lirs contro il Mons l'over in Belgio nell'Inghilterra B la championship l'over 1.5 del QPR Bansley a noi piace anche l'over in questo caso inserite una scommessa di una cinquina diciamo si siamo un po' più prudenti l'over 1.5 poi ci piace l'uno del Novara con Terlanciano del quale ho già parlato e anche l'Inter Roma abbiamo già detto ci piace nel primo tempo l'over 05 vi ricordo che di questi cinque risultati noi consigliamo sempre di giocare con la correzione di un errore cioè le cinque quaterne non la cinquina se vi piacciono tutti i risultati e non volete giocare cinque non volete fare cinque quaterne almeno levate un risultato quello che vi piace meno giocate insomma sempre sulla quaterna non tanto la cinquina la settimana scorsa tra l'altro in queste tre scommesse sono entrate esattamente tutte e tre le quaterne nel senso che è stato sbagliato un risultato per ciascuna delle tre scommesse quindi chi ha seguito il nostro suggerimento è andato in vincita chi ha giocato tutta la cinquina chiaramente invece ha sbagliato dicevamo anche per domenica attorno ve lo sto scrivendo anche nella parte grafica nella parte alta della nostra grafica queste sono tre cinquine da giocare ognuna di esse con la correzione di un errore cioè le cinque quaterne oppure se non volete giocare cinque quaterne togliete uno di questi cinque risultati quello che vi piace meno e così potete giocare una quaterna per domenica suggeriamo l'over 1.5 tra Tottenham e West Ham l'over per una partita di seconda divisione Cuneo Real Vicenza l'over di Marsiglia Paris Saint-Germain che abbiamo già visto anche nel suggerimento di Bocanzi e per quanto riguarda Napoli-Livorno vi ho già detto che ci piace l'over e poi ancora per quanto concerne Lazio-Ferentina la somma col pari somma col pari non vuol dire ripeto segno X vuol dire somma col pari che viene sicuramente presa se la partita finisce in pareggio e noi in genere la somma col pari la giochiamo in una partita in cui c'è piuttosto equilibrio però potete sempre prendere la somma col pari se in quella partita finisce con un risultato la cui somma col è pari e sono tanti perché sono il 2 a 0 e lo 0-2 sono l'1-3 e il 3 a 2 sono scusate se mi l'1-3 e il 3 a 1 il 4 a 0 lo 0-4 questi sono tutti i risultati nei quali il pareggio non viene però viene lo stesso la somma col pari che è pagata un po' meno ma è sempre una buona quota cioè a 1,80 certo l'X in una partita paga di più e la somma col pari l'X è trovata sempre a 3 3,5 a meno che non si tratti di una partita dove il segno 1 è favoritissimo allora l'X sale molto tipo Napoli-Livorno che l'X è pagato oltre 5 volte la posta tranne queste partite quasi tutte le altre partite dove c'è un certo equilibrio l'X è sempre pagato fra 3 3,20 3,30 mentre la somma col pari è normalmente quasi sempre pagata a 1,80 1,82 non più di tanto verso la fine dei campionati quando ci sono i pareggi che fanno comodo entrambe le squadre la somma col pari viene anche pagata di meno ma questo discorso a fine campionato l'ultima cosa che possiamo vedere per questa settimana prima di chiudere questa prima puntata di Totomarket scommesse i nostri over 1,5 favoriti prima di dirvi questo volevo dirvi che anche che la scorsa settimana nel sistema che sto pubblicato su solo scommesse calcio era un sistema di 11 partite sviluppato in 11 cinquine la quota più bassa era quella della vittoria del Porto ma le altre quote delle altre partite erano piuttosto interessanti 1,50 1,60 1,80 sono entrate tutte 11 le cinquine in questo sistemino che sto pubblicato è un evento che non si può ripetere ogni settimana ve lo sto comunque dicendo anche perché in quello di questa settimana abbiamo rimesso nuovamente un altro sistema di 11 cinquine di 11 partite sviluppate di 11 cinquine gli over 1,5 anche questa è una piccola rubrica che troverete su questo giornalino gli over 1,5 la scorsa settimana sono stati presi tutti e sei vi ricordo facendovi vedere quelle di questa settimana che tra poco vedete sul teleschermo che sono over 1,5 che mediamente vengono quotati 1,30 1,32 quando si prendono quattro di questi over 1,5 già avete triplicato la posta se ne prendete invece cinque di over 1,5 come questi diciamo sì che vi stiamo suggerendo in questo momento cinque di questi over 1,5 pagano già quattro volte la posta cioè chi ci gioca 10 euro già ne vince 40 se si prendono invece tutti e sei sei da un quota diciamo sì da mediamente da 1,32 pagano oltre cinque volte la posta quindi questo è per ricordarvi che se ci si sa accontentare è più facile vincere in questo caso i nostri over 1,5 sono sei ma io vi dico sempre non giocate di tutti e sei prendetene cinque oppure giocate a rotazione con la correzione di un errore oppure levate uno di quelli che non vi piace quelli che vi stiamo suggerendo serie A Bologna-Verona sempre in serie A Catania-Genua e vi ricordo che over 1,5 significa almeno due gol quindi una 1,2,0 0,2 e chiaramente tutti quelli che vanno anche oltre chiaramente i due gol quindi almeno due gol in quella partita le sei partite che suggeriamo questa settimana dicevamo Bologna-Verona Catania-Genua in serie B ci piace l'over 1,5 in Avellino-Bari in Inghilterra nella Premier League Southampton-Swansey in Inghilterra B sempre QPR-Bansley e in Francia l'over 1,5 di Marsiglia per i St. Germania che per la verità è quotato un po' meno diciamo così di 1,32 però ci sono anche altre partite invece la coda è un pochettino più alta siamo in chiusura di questo primo appuntamento ci vediamo la settimana prossima da Giuseppe Cina per il momento è tutto ciao